Le urne hanno dato un risultato che onestamente riconosciamo la vittoria alla lista avversaria, ma siamo consapevoli di aver fatto un ottimo risultato. Nella sostanza dei fatti c'è un paese che elettoralmente è diviso in due tronconi, dove uno afferisce alla nostra lista, alla nostra combagine e al nostro raggruppamento. Dall'altro lato ci sono almeno tre o quattro gruppi che si sono riuniti. La verità è che riconosciamo la vittoria, ma siamo convinti di essere praticamente a un passo, siamo stati a un passo dalla vittoria e ci stiamo organizzando per essere da pungolo e da controllo della prossima amministrazione.